Bellaio bentornati su RealNapoliFootball Ragazzi un punto dalla divisione 4 finalmente ci siamo Andiamo a cercare subito il prossimo avversario Vediamo di fare questo cazzo di punto e di portarci in divisione 4 Come sempre se vi fa piacere lasciate un like al video Iscrivetevi al canale e magari a fine partita commentate per farmi sapere Che ne pensate della partita e del video in generale O di quello che cacchio vi pare Comunque detto questo vediamo chi ci capita in questa puntata E come ho detto Ayou manca un punto per la divisione 4 Abbiamo vinto una partita la scorsa puntata Una partita spettacolare contro l'avversario che era comunque abbastanza forte Anzi era forte Ma l'abbiamo spuntata con un acuto di Osimen e Quara Schelia Vediamo che cosa succede in questa puntata Se ci fa trovare l'avversario L'avversario ho trovato, adesso avevo trovato qualcosa da fare Mentre aspettavamo questa fantastica ricerca Che abversario ho trovato ed è esattamente la Ternana Napoli-Ternana ragazzi Napoli-Ternana Per cercare di andare in divisione 4 Eh è costato Bene Una Ternana con sonno chiaramente Allora i nostri ragazzi sono tutti bene Tranne Nathan e faremo giocare il nostro Ostigard Odio perché per me Ostigard è davvero davvero forte Il resto è tutto ok Casomai ce la vediamo nel secondo tempo Loro hanno una bella squadra Non totalmente di fenomeni Ma una bella squadra che sembra anche equilibrata Quindi vediamo che cosa succederà Contro questa Ternana che sembra organizzatissima Il canno è il logo, il canno è il logo, il canno è il logo Si parte, si parte Napoli-Ternana Missione-Promozione Vediamo se riusciamo a portarla a casa questa missione Osimeno Palla per Lobotka Scendiamo da quest'altro lato questa volta Lobotka Palla per Di Lorenzo Allarga per Politano Che non fa è Politano Cerca Ziviski Potrebbe essere una buona idea Ma non troviamo Ziviski Prova a ripartire la Ternana Attenzione Rachmani Bell'anticipo Poi la dà da Anghissà Scendiamo Anghissà Larga per Osimeno Che vede Kvara Schia Osimeno Ziviski Che sbaglia il passaggio verso Kvara Prova a chiudere Niente da fare Ziviski Chiusura di Di Lorenzo Che appoggia Ziviski Che allarga per Kvara Schia Che cerca subito Ziviski Che si gira E la dà a Zielo Che allarga ancora per Kvara Schia Kvara Schia Dribling Doppio dribbling Triplo dribbling di Kvara Che prova a crossare adesso Però Simen Che prova a metterla dentro di testa Ci facciamo subito vedere E mica Mario Ci facciamo subito vedere Friane Magnan Prova a rimetterla fuori Lobotka Combattere con Cristiano Ronaldo Ostigard Ricopera palla Ma sbaglia tutto Attenzione Ostigard La lascia lì a sonno Poi la recupera Mamma mia Brividi 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 Di Lorenzo Palla per Anghissà Che vede Kvara Schia Lontano Ancora errore In impostazione Mamma mia Grandissimo Mario Rui Che però la palla resta lì Arriva Anghissà Proviamo a mettere un po' di ordine Con Kvara Schia Che vede Anghissà Che cerca subito Si gira da quest'altro lato Prova il Dreaming Si fermato da Pipe E perché te ne capis Ma chi lo porta Ostigard esce In maniera un po' sconsiderata Sta entrando So Mamma mia Meret Su Cristiano Ronaldo Abbiamo imbastito Un'azione fantastica Poi Zerischi Va verso Kvara Schia Si ferma Kvara Tacco verso Zer Errore L'abbiamo iniziato Maluccio sta partita Maluccio Veramente Inizione Ostigard Prova a chiudere Non ci riesce Cross in mezzo Meret Meret Prova a rilanciare lungo Verso tutto Rosyman Che appoggia Politano Errore Neanche di Politano Ragazzi Abbiamo iniziato Malissimo Malissimo Attenzione Son E riesce Il gol di Son Giusto così Abbiamo iniziato male Son ci fa la foto La Ternana Si porta in vantaggio Rosyman Lobotka Palla per Di Lorenzo Politano Politano Vede Zerischi Che allarga subito Per Kvara Schia Drippling di Kvara Kvara subito Dietro per Zerischi Zerischi Ancora per Kvara Schia Si ferma Kvara Schia Cross di Kvara Perché si menna Non Vabbè Tra recuperosi Dentro Politano Fuori gioco Non ci credo Che cazzo Ho fatto Fuori gioco Di Politano Di un nulla Fuori gioco Di un nulla Di Politano Mannaggia La muttana Comunque Fianne Mignani Lancia a lungo Trachman a contrastare Su Ronaldo Lo riesce Riesce a dare gli fastidio Ma regola la palla Poi nella seconda Baccuta si E Di Lorenzo Va verso Kvara Schia Scende Kvara Kvara Si ferma Si ferma Appoggia Per Zerischi Zerischi Prova ad andare Dentro Incredibile Un ottimo Non sapere cosa fare Lobotka D'attacca La Ternana Con Ronaldo Che se ne va Ma Osticard Lo chiuro Mario lui Allarga Per Lobotka Con un po' Di brivido Lobotka Vada Kvara Schia Si ferma Kvara Kvara Dentro Per Zerischi Fermato Da Jimenez Sta giocando Bene la Ternana E molto male noi Soprattutto in fase Di impostazione Ragazzi E anche in difesa Non stiamo ancora Brillando Attenzione Lobotka Però qui Recupera una gran palla Prova ad andare La Kvara Schela Che va subito Dentro Da Osimena Che fa correre Politano Dentro Politano Che penetra Politano Fermato Da Robertson Incredibile Poi fallo Di Osimena Non chiamato Forse dall'arbitro Per il vantaggio Attenzione Prova a ripartire La Ternana Che va Ronaldo Stigard Attenzione Ziriski Palla per Ziriski Che prova ad allargare Da quest'altro lato Verso Marteo Politano Che di destro Va verso Kvara Schela Cambio gioco Apriamo un po' il campo E tu stai scendendo Kvara 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 Schela Non so un po' cosa fare Kvara Schela Attenzione Poggiata Anghissà Un po' Non riesco a capire Cosa fare Io Questa partita Lobotka Ziriski Anghissà Proviamo a far correre Un po' la palla Ancora Kvara Schela Ziriski Dentro Prova l'imbocata Niente da fare Mario Ziriski Poggia Lobotka Anghissà Allarga Per Kvara Schela Di esterno Che l'ha ridata Anghissà Dentro Per Kvara Chiuso da Ferrer Primo tempo Strano Brutto E strano Ah qui fallo Giallo per Di Lorenzo Giallo per Giannino Sono entrato male Vai Su Dembélé Male su Dembélé Pepe Da Dembélé Giannino esce male Costa in mezzo Ronaldo E poi Di Lorenzo Non ci credo Meret E finisce qui il primo tempo Ragazzi Un primo tempo Davvero brutto Primo tempo davvero brutto Che ci vede sotto 1 a 0 1 a 0 Hanno giocato molto meglio loro Chiaramente si vede anche dai dati Dobbiamo assolutamente fare Molto di più Molto di più Secondo me Devo cambiare modulo Perché Non riesco a impostare Non riesco a costruire qualcosa di interessante Attenzione Osimène Osimène Prova ad allargare Anche qui Osimène Una larga Ancora niente Da fare Vittor Un doppio errore Ancora Vittor Sì È una cosa che posso fare Ma sto pensando proprio di fare dei cambi E di cambiare modulo Dico la verità Che mi chiude molto bene Attenzione Di Lorenzo Di Lorenzo Attenzione Giannino Giannino Poi già verso Matteo Politano Che prova ad entrare Con Politano Il cross in mezzo Magnano Ha provato il cross Attenzione Mario Rui Prova a contrastare Osti guard Qui fallo Ci sta Ci può stare Attenzione Osimène Allora intanto Proviamo a buttarci un po' in avanti Perché bisogna disegnare Quanto meno il pareggio Ma passa qui Mamma No Ha chiamato rigore Ma vaffanculo Vediamo che succede E adesso devono sperare nel miracolo E soprattutto affidarsi al portiere Anche se qua Ma che cazzo di rigore ha chiamato questo Ma che cazzo di rigore ha chiamato ragazzi Vabbè Ronaldo 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 Meret Meret Attenzione Ronaldo Meret Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ragazzi 2-0 Ternana Lobot Cosimène Attenzione Zieris Che è In coranghissà Lobot Che scende Lobot Che ha dentro Per Osimène Per una palla Osimène Va dentro Ma non c'era nessun in area Per raccogliere una Qualsiasi cosa Avesse fatto Osimène E infatti Attenzione Dembélé Prova a chiudere Giannino Di Lorenzo Non ci riesce Di Lorenzo Ostigard Sonna Arriva Lobot E anche se Prova ad aprire per Di Lorenzo Dentro per anche se Per Zieriski Anche se Scende anche se All'arga D'altro lato Per Kvara Schelia Kvara Schelia Kvara Schelia Entra Kvara Schelia Cross in mezzo Ma perché non c'è nessuno in area Perché Lobot Spara Palla po' Palla fuori Stavoletà non sta forte Allora Allora Onestamente Onestamente C'ho il sciolito E sta forte Però Gioco con due punte Non fargli costare sempre Il piede debole Si qualche volta Infatti O rientro L'inverto Ma l'inverto 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 un attimo Che proviamo Che proviamo a fare Qualche cross Come hai detto tu Che ci sta E metto un po' Livera Che dà un po' Di fisicità Dietro E il resto va bene Zerby non lo metto Semen mi serve Non metto il sciolito E va bene così Va bene così Due cambi Un'inversione Vediamo se riusciamo A fare un po' La differenza Un cavallo a destra E Politano a sinistra Meignan Rilancia a lungo Giochiamo col trequartista Attenzione Racamani Prova a recuperare palla Non ci riesce Nemmeno Di Lorenzo Osticato Prova a chiudere Su Quisano Ronaldo Ci riesce Se ne va Di Lorenzo Scende Di Lorenzo All'argo 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 Prendi palla Scende Di Lorenzo Forse era un po' telefonato Ma rappoggia Di tacco per Raspadori Arriva Anghissà Dentro Però si vende Troppo Penso Troppo pretenziosa Questa giocata Infatti si vede Racamani Penso che è fuori gioco Ma ovviamente Per il gioco no Racamani Mamma mia Recuperiamo palla Poi Anghissà Venta la consegna Per la troppa frenetia Wow Wow Che passaggio ha fatto Tre gol di vantaggio Si spegne la luce Per gli avversari Ma che passaggio ha fatto E vabbè Ostiga Olivera Politano Lobotka Badanghissà Dentro Prendersi questo pallone Scende Osi Palla per Kvara Schelia Che si gira Kvara Si ferma Kvara Fermato Kvara Senza pallo Ragazzi Ma che cosa ridicola però Che cosa ridicola Senza pallo Vantaggio Palla persa E' un sacchiamato Fanno Vabbè 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 Tragica questa partita Va Dembele Che affonda ancora Di Lorenzo Sbaglia in uscita Attenzione Dembele Entro per Ronaldo Che tira E Olivera Non riesce nemmeno A metterla fuori C'è Kuluseski Tiene palla lì Attenzione Va tutto male In questa partita Meret Ci evita Il 4-0 Ragazzi Male Molto Molto Male Molto Molto Male Bra Una statua Arbit E vabbè Lui ha giocato bene Io ho sbagliato Parecchio Però Diciamo che Diciamo che Qualcosa Di strano C'è stato In questa partita Ozyman Non riesce nemmeno A metterla a terra Di Lorenzo Anghissà Anghissà Prova a darla Dove è Oio però C'è Sono pure io Sono pure io Cazzo Attenzione Politano Qua Fanno una cosa Che non ha senso Ozyman Dentro per Anghissà Che tira giro La parata Di Egnan Dopo La diviazione Di Lorenzo Va su Dembele Qua la schiera Si ferma La dà Di Lorenzo Che entra Di Lorenzo Cavara Appoggia Per nessuno Chiama Addirittura Un fallo A noi Incredibile Ci dà addirittura Il brivido Del fallo C'è Politano Attenzione Politano Politano Sulla barriera Mette palla Giupolitano Dentro Per Giannino Di Lorenzo Che crossa In mezzo C'è Anghissà Non arriva a tirare Poi Lobotka Si gira Lobo Dentro Lobo Anghissà Raspadori Fuori gioco Fuori gioco Fuori gioco Di Giacomino E va bene E va bene E va bene Giacomino Raspadori Quanto meno Accorcia Giacomino Raspadori Raspadori Andiamo con le stagionane Incredibile Un gol stagionane Di Raspadori Attenzione Provano ad attaccare Subito loro Fallo Chiamato Immediatamente Siamo 3 a 1 Ragazzi Giacomino Accorcia Ma La scalata È troppo Ripida Per il tempo Che ci rimane Attenzione Robertson Loro entrano in aria Meret Blocca la palla Molto bene E rilancia lungo Verso Osimen Che riesce ad appoggiare Giacomino Raspadori Che fa correre Politano Se ne va Politano 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 Attenzione Politano Politano Che crossa Verso Osimen Che stava inventando Una cosa pazzesca Arriva Lobotta Che non riesce ad appoggiare A nessuno Anghissa Palla per Racmani Larga per Di Lorenzo Dentro per Raspadori Troppo lenta La palla di Di Lorenzo Per Giacomino Raspadori Attenzione Attacca la Ternana Dembélé Saltanetto Racmani Va verso Ronaldo Osticard Si sta facendo un pisolino Arriva Osticard Adesso Palla per Quara Schelia Scende Quara Schelia Dentro Per Raspadori Che prova a ritardarla a Quara Chiudono tutti Chiudono tutti Attenzione Giacomino Riescono a ripartire Loro Incredibilmente Dove cazzo va Osticard Che si è fermato Sono Comunque Riupera palla Osticard Che appoggia Sbagliando Telefonatissimo Il passaggio L'ha capito un anno prima Con un cretino di merda Tensione Mamma mia Ronaldo Lobotta Ci evita Il 4-1 Pesantissimo Di Lorenzo Abbatte L'attaccante Finisce qui 3-1 Brutta partita Ci servirà Un'altra partita Ancora Per cercare Di andare In divisione 4 Si è allungata Un po' troppo Sta divisione 5 Ha rotto Per un po' il cazzo Proveremo Ad andarci Nella prossima Un po' il cazzo